E' la sera del 25 giugno a Santa Margherita, una contrada nella periferia nord di Crotone. Alcuni ragazzi stanno giocando a calcetto e la partita è quasi finita. A bordo del campetto aspetta di entrare Domenico, 11 anni. E' lì con il padre, Giovanni Gabriele. Giocano un po' per uno, alternandosi in campo. Domenico, quella sera, ha tanta voglia di entrare. A bordo del campetto aspetta 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 di entrare. Arturo, Dodò, Elisabetta, Mariangela, Pasqualino, qualcuno purtroppo ha distrutto il vostro sogno, ma state tranquilli, la vostra corsa con gli acolioni non si è mai interrotta nei nostri cuori. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!